Lottie Moss, sorella minore della più famosa Kate Moss, ha 26 anni e ha un corpo mozzafiato ma nonostante questo, a causa anche di ansia, depressione e dipendenze ha un rapporto non sereno con le sue forme. Per questo è finita in ospedale dopo un'overdose di Ozempic, un farmaco contro il diabete pericolosamente utilizzato, a Hollywood, anche per dimagrire. Lo ha rivelato lei stessa durante un episodio del suo podcast Dream On, spiegando che quando è stata ricoverata ad urgenza ha avuto un attacco epilettico causato dalla disidratazione. È stata la cosa più spaventosa che mi sia mai capitata in vita mia. Il mio viso e il mio corpo a un certo punto si sono completamente irrigiditi. È stato orribile. Lottie ha raccontato di aver fatto ricorso al farmaco qualche mese fa, in un periodo in cui non ero contenta del mio peso. Un'amica mi ha detto che poteva aiutarmi lo Ozempic. Il Lottie ha iniziato a iniettarsi dosi adatte a una persona di 100 kg, mentre io ne pesavo poco più di 50. L'ho usato per due settimane e non mi sono mai sentita così male in vita mia. Sono passata da 60 kg a 57 in pochi giorni, poi a 54 e quindi a 53. Non era una perdita di peso sana considerata la velocità. Alla fine, sono rimasta a letto per due giorni, non riuscivo a trattenere né cibo né acqua, e il mio viso non aveva più colore. A quel punto l'amica l'ha portata in ospedale. E oggi, dopo il grande spavento, Lottie ha una certezza. Preferirei morire piuttosto che prendere di nuovo quel farmaco. Possa servire di lezione ad altre persone. È stata la decisione peggiore che abbia preso in vita mia. Quel farmaco è un antidiabetico, per favore non prendetelo per dimagrire.